signori miei benvenuti in una nuova reazione ai tiktok degli anime quest'oggi si in e questo oggi come vedete siamo su la reazione tiktok più belli di death note ragazzuoli per chi non ha visto death note è un coglione scherzo ovviamente per chi non l'ha visto vi consiglio di andare a vederlo è un grande manga che io ovviamente ho visto per quanto mi riguarda raga ci sono tantissimi e qua stavolta abbiamo 9.2 billi io vi posso solo dire una cosa già da attack on titan se avete visto gli scorsi video di naruto e di dragon ball ne abbiamo visti belli chissà se death note ci gusterà se death note non ci gusterà pazienza passeremo del prossimo anime ma adesso basta fare basta fare i deficienti direi di iniziare ma prima di iniziare ovviamente lasciate un bel pollice in su iscrivetevi campanellina accesa per ricevere tutte le mie notifiche e ora iniziamo con questo cosa come da dove è spuntato ryuk da dove diamine è spuntato gli ha preso la bella lei è andata dietro ma effi allora raga se è veramente lui cioè vabbè ovviamente non è veramente lui sarà però raga il costume è fatto da dio porca miseria ovviamente se il tiktok ci piace gli mettiamo un bel like like messo perché questo è veramente figo primo tiktok ovviamente è stato molto bello e soprattutto ora vedremo il prossimo tiktok di death note come vedete non ce ne sono tantissimi però oh mio dio c'è no 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 si sta facendo quello che è possibile lo stai facendo proprio lui quanto ci sta mettendo a fare raga sta sta pittorando sul muro fu un cazzo di muro vedremo il risultato come rara o meglio chi starà dipingendo ovviamente ok ho già capito chi sta dipingendo sta facendo ryuk ormai ryuk penso che sia cosa 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 quelli li ha fatti tutti lei non ho capito però penso che li abbia fatti tutti lei raga mi è venuto da dio guardate che raga è bellissimo anche se non so perchè è mezzo blu però non mi importa è bellissimo ryuk raga ma ryuk boh c'è solo ryuk oggi comunque questo like ovviamente perchè è bellissimo raga ovviamente guardate che belli pure i dettagli i dettagli li ha fatti perfetto però l'ha fatto anche el sto guarda ha una mela perchè a lui piacciono le mele non so come mai sta cosa gli piacciono le mele sostanzialmente forse perchè ne ha assaggio cosa no no fermi ma 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 a parte che non mi interessa niente del dei cuori ma dei cuori che ha in mano ma mi interessa il cosplay porca miseria raga ha fatto un cosplay di L oh mio dio è bellissimo ma non mi spiego ma come fanno guardate che ok bisognerebbe prendere il trucco varie varie cose che ti servono però raga è bellissimo pure questo è un bel like spedito beh ragazzi che fai mettere breve e questo allora premetto subito che sta facendo a mano libera cioè sta facendo a mano libera tutto questo se è su un capolavoro allora se quello è un disegno ragazzi è quello che ho visto è un disegno a parte che il disegno a parte che il disegno bisogna tipo fare una magia però se era veramente un disegno quello io cosiddio gli mando un like perchè mi piace il gioco di magia madonna quanto ci avrà messo per fatturare avrà disegnato tutto avrà disegnato tutto penso sto capendo tutto si 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 sto capendo tutto come scusa ha fatto una pixel art che penso sia su su un sito random ha fatto una pixel art di L ma raga ma oggi tutto L e Ryuk ma datemi almeno light anche light yagami se volete madonna voglio subito di Death Note non me ne frega un c***o voglio voglio quaderno con scrivere di Death Note ma quanti quanti vangai a malapena c'ho due vanga io no fermi no 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 stai mettendo tutto a posto quelle sono tutte Demoslayer eh se non l'avete capito quello era tutto Demoslayer questo non lo conosco come manga scusate ma non lo conosco scusami ma quanti vangai scusa splash non l'ho mai visto ah e coso lì com'è che si chiama splatoon zelda vabbè si zelda ma qua ma qua no no quanti Death Note ha come vabbè subito mi piace perché c'è la mirata della mia questo è quello di prima tra l'altro quello che aveva fatto il cosplay è sempre lui bello che ha fatto però gli schermi molto caruccio molto caruccio raga però non è da go non è da t non è da like sorry sorry ma non è il like cos'è sta roba ma è un gatto ok Ryuk è un gatto è un gatto ma è bellissimo poi perché gli ha fatto proprio un travestimento da Ryuk carino questo like subito anche se non era Epi cosa no 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 è Pongo ha le teste cosa allora raga sono l'ideagami e el oh mio dio quanto sono fatti che poi tra l'altro ha fatto le teste quello per il corpo c'è bong fatto due statuette perché comunque raga like subito ma che cacchio stai contando su cioè mi stanno prendendo in giro anche perché così nettamente io non ho mai visto ste cose cioè perché non ho fatto una live perché non l'ho fatto prima come 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 ok che c'era il flash ma come cazzo ma come ha fatto mettere il Ryuk lì così io sono allibito da dire ma come fa sette punto miglio questo mi sa che il tiktok che abbiamo trovato con più mi piace degli anime ripeto che abbiamo visto porca miseria però sette milioni di mi piace ti arriva un altro non ti preoccupare e questo è un altro flash gli da la mela lì vicino ma come è possibile guarda che sembra che arrivi sembra che sembra che spunta veramente mi piace assolutamente sembra che spunta veramente oh mio dio questo ragazzo che fa ma non era quello che dicevo questo questo ah qua abbiamo un montaggio veramente assurdo ma sembra veramente lui raga perché sti montaggi mi fanno sentire inutile perché non è possibile ma come fai raga mi piace che ti devo dire che vi devo dire vabbè sono ancora impressionato comunque il tiktok che mi è piaciuto di più è quello che ha fatto il dipinto di Ryuk però cosa scusa raga è quella dello scorso episodio per chi non l'avesse visto questa ragazza ha fatto interamente su un vetro su un pittura su vetro ha fatto una un'immagine di Levi il capitano Levi di Attack on Titan ma vedremo che fa questa qua Giovi o mia spole allora gli occhi i capelli com'è possibile ma come fai raga per fare queste cose bisogna avere l'intelligenza razzica ah su gira quattro quattro del mattino scusami un attimo sei stata lì per tre ore perché prima l'una adesso le quattro ma sei stata lì tre ore a farci dipinto vabbè vabbè non so perché ci ha fatto vabbè raga questo è un dipinto non come faccio io faccio tre righe dopo basta cioè porca miseria che figata questa è una figata da una parte abbiamo light tra l'altro dietro c'è la Ryuk che non l'avevo neanche visto e a destra abbiamo L io qua non dico niente va metto mi piace e basta dire basta direi perché altrimenti mi sento inutile cioè questi tiktok mi mandano in via il cervello ma ma perché non riesco a capire non riesco a definire cos'è un tiktok cos'è niente vabbè ragazzi per questo per questo video si conclude abbiamo visto dei tiktok veramente belli di Death Note vabbè sicuramente non potevamo vedere i balletti del cioè non potevamo adesso però questo è tutto ci vedremo domani con un nuovo video di reazione tiktok degli anime perché domani ci sarà un nuovo episodio ma l'anime e ora niente ci vedremo domani sera con un nuovissimo tiktok ci vedremo domani con un nuovo video d'agosto è tutto ciao ragazzi